Continuano i lavori propedeutici alla costruzione del ponte Beli a Faenza. La prima distesa di massi che in questi giorni ha campeggiato in piazza Lanzoni è stata posizionata sull'argine destro del Lamone, lato borgo, a creare una scogliera per aumentare la resistenza all'azione erosiva dell'acqua nei momenti di piena. Stessa soluzione verrà dotata sull'argine opposto. Nel frattempo, sempre in piazza Lanzoni, sono iniziati i lavori per la realizzazione della rampa della nuova infrastruttura. Il ponte vero e proprio dovrebbe arrivare a Faenza la prossima settimana per poi iniziare ad essere posato sopra il letto del fiume. La nuova fase del cantiere dovrebbe essere completata in 3-4 settimane. Nel frattempo, sempre la prossima settimana, inizieranno i lavori per la realizzazione della rotatoria all'incrocio fra via Renaccio e via Lapì, indispensabile per consentire ai mezzi a motore di accedere al ponte Beli. L'amministrazione comunale ha deciso inoltre che la rotatoria sarà permanente, rimarrà anche quando sarà ricostruito il ponte delle Grazie e il ponte Beli verrà demolito, in modo tale da garantire una maggiore sicurezza ad un'intersezione più volte teatro di incidenti stradali. L'accesso per pedoni e ciclisti al ponte Beli sarà invece garantito a partire dall'incrocio del ponte delle Grazie.